Nell'Eurogruppo riprenderemo il lavoro, come sapete abbiamo già un Eurogruppo oggi pomeriggio, dopo che cercherò di dormire un paio di ore e la procedura è da parte greca, i prossimi giorni, martedì e mercoledì, dovranno legiferare sull'intero accordo, ci vorrà l'avalo del Parlamento greco, ma anche le prime azioni prioritarie, i primi atti legislativi che sono stati indicati nell'accordo. Una volta che sarà compiuto questo lavoro da parte del Parlamento greco ci sarà un Eurogruppo, probabilmente mercoledì, che sarà l'avvio per gli altri parlamenti nazionali dove potranno cominciare il loro iter, ciò avrà luogo da mercoledì a venerdì, non posso essere preciso perché i parlamenti nazionali sono sovrani e decideranno loro il proprio calendario e una volta che i parlamenti nazionali avranno affrontato la questione, ci sarà una decisione più formale da parte dell'Eurogruppo Trattino Consiglio dei Governatori dell'ESM con una decisione sulla base dell'articolo 13.2 del trattato che dovrebbe permettere loro l'inizio di negoziati formali.